La seconda parte di Basket Time, lasciamo per un attimo in stand by le vicende societarie della menzana, delle quali comunque torneremo a parlare nella terza e ultima parte della nostra trasmissione. Abbiamo questa sera, Mauro, ospite Michele Catalani, dobbiamo innanzitutto celebrare la grande vittoria che il settore giovanile con la squadra Under-18 ha avuto un paio di settimane fa alla Coppa Carnevale di Piombino, perché, parlo un attimo con te e poi ovviamente sentiamo Michele, qualche anno fa eravamo un po' abituati a vincere tornei di Piombino, torneo importantissimo a livello giovanile, ma andavamo con il settore giovanile della menzana basket a giocare e spesso a vincere anche in Europa, Scudetti, insomma, dopo tutto quello che è successo, pian pianino essere ripartiti, essere riusciti anche a vincere la Coppa Carnevale, credo Mauro sia un grande attestato al lavoro che è stato compiuto. Penso di non essere la persona più adatta per dirlo, però indubbiamente sì, io penso che è una delle osse che fa più piacere in questa stagione molto tribolata della menzana, sapere che sotto il motore che arde, che è quello poi che gira bene, e glielo dico non tanto per fare soltanto complimenti, ma perché poi i risultati si vedano, non sono soltanto quelli poi luccicanti, proprio il lavoro, la vivacità di questa Academy della menzana e questo è il segnale più positivo, mi fa piacere, ne abbiamo già parlato in una fase precedente, pre, ora si sta stringendo un po' la stagione, da parte anche quella più importante dei risultati, però intanto non lo vogliamo dire, ma vincere il torneo di Carnevale di Piombino è una delle cose più importanti che deve succedere prima delle parti finali del campionato, per cui Michele sicuramente sta a te raccontarci non soltanto questa vittoria, ma poi penso anche... Sì, poi facciamo anche una carrellata su tutte le altre cose. Sì, sì, io vi ringrazio innanzitutto, è stata una vittoria importante perché ovviamente è un torneo storico che è tornato da qualche anno sul palcoscenico dei settori giovanili perché ci sono stati alcuni anni in cui era stato sospeso, ma che sostanzialmente raccoglie buona parte delle squadre migliori in Italia per la categoria Under 18. Onestamente eravamo andati per misurarci, non ci aspettavamo di riuscire a competere con squadre come la Virtus Bologna, che comunque è una di quelle accreditate per la vittoria finale dello Scudetto, così come Pesaro che è un'altra squadra ben attrezzata, invece nel corso del torneo siamo cresciuti. Devo essere onesto, i ragazzi sono stati bravissimi perché abbiamo vinto la semifinale e la finale, il rimonte eravamo a meno 15 e meno 16 alla fine del terzo quarto in entrambe le partite, abbiamo sparato probabilmente un po' di cartucce e anche un po' di fortuna che ci ha aiutato soprattutto nel tiro finale di Costi nella partita con la Virtus Bologna. Quello l'avevi disegnato sulla lavagnetta? Sì, quello l'avevamo programmato, anzi ci alleniamo spesso. Costi domenica ha fatto vedere, non è un nuovo a queste imprese, è entrato 5 secondi in freddo, ha fatto adesso sull'altro. Assolutamente, infatti credo ne abbiamo parlato anche con lui sulla scelta di quel tiro da rimbalzo, però è stata una soddisfazione, credo che i ragazzi si siano meritati a pieno, ecco dovrebbe essere questo, che si sono meritati. Spero che sia, anzi sono convinto che sia un risultato che ci darà un po' di benzina per questo finale di stagione che sarà abbastanza complicato, è pieno di impegni, abbiamo iniziato la seconda fase con gli under 18, saremo ad Avellino già giovedì in una sfida importante per cui insomma il lavoro che stiamo portando avanti è tanto e sicuramente un successo alla Coppa Carnevale oltre che rimanere nella nostra bacheca e per noi era importante anche per questo motivo ci permette di guardare con fiducia nella parte finale di stagione dove stiamo cercando di agguantare uno o due finali nazionali, speriamo di poter andare con entrambe le squadre under 18 e l'under 16 tra le migliori 16. Calestro di Costi l'abbiamo visto, è quello che vi ha portato in finale poi la vittoria contro Pesaro, Costi fra l'altro in settimana è stato convocato dalla nazionale under 18, andrà a fare sia il raduno a Roma e poi soprattutto torneo a Mannheim. Sì, è tra i 16 e poi vediamo ne verranno convocati i 12 ma per noi il fatto che Cosimo e il ragazzo abbiamo reclutato quest'anno dalla Sancat Firenze che peraltro colgo l'occasione per ringraziare che è una società amica e seguivamo il ragazzo da qualche tempo, è un ragazzo che non ha mai partecipato a campionati di eccellenza con tanto rilievo, credo abbia fatto una finale nazionale, non so se under 15 o under 16, ma è comunque rimasto sempre a casa sua. Ha sorpreso anche lui e a noi ha fatto molto piacere anche questa convocazione nazionale perché vuol dire che i pochi mesi trascorsi qua gli hanno permesso di essere pronto comunque farsi notare dal settore squadre nazionali, per cui per noi è anche un piccolo traguardo nell'essere riusciti a dargli una mano a raggiungere questa convocazione, il resto se lo deve giocare lui. Michele una domanda, come si fa a gestire una vittoria in questa maniera nell'ottica delle finali che giustamente volete lottare perché tante volte una vittoria anche in questa maniera soprattutto nei ragazzi può creare anche un pochino un eccesso di entusiasmo? Ma noi siamo, credo che una parte del nostro lavoro sia quella di creare consapevolezza durante la stagione in quelli che devono essere i nostri obiettivi, in quello che deve essere il percorso. I ragazzi non sono stupidi, sanno che eravamo meno 16 alla fine del terzo periodo e siamo riusciti a rimontare, anzi spero che sia la cosa che gli rimanga in mente meglio perché nelle prossime occasioni probabilmente da meno 16 non ci faranno rimontare. Però credo che nel lavoro quotidiano che facciamo con i ragazzi loro abbiano ben preciso quello che è il nostro valore e una vittoria del genere al di là della soddisfazione non li faccia sopravvalutare se stessi. Credo che abbiano chiaro che abbiamo fatto una grande cosa ma che per vincere le partite già da quelle di questa settimana dobbiamo giocare partita per partita, minuto per minuto perché non ci possiamo permettere di guardare troppo avanti e credo che quello possa essere l'unica strada che ci può portare a vincere qualcosa. Questi sono i festeggiamenti proprio per la vittoria della Coppa Carnevale. Io ho intravisto sia in questa che nell'altra partita, fammelo dire, fammi spendere due parole per Marcello Villi che storicamente è l'accompagnatore, io credo sia lì da 25-30 anni. E insomma è sempre presente perché poi tante volte giustamente sotto i riflettori ci va lo staff tecnico soprattutto ci vanno i ragazzi magari augurando loro di avere un futuro importante nel basket poi però ci sono anche personaggi che magari rimangono nell'ombra e che però sono fondamentali. No Michele? Assolutamente, anche perché questa era la decima Coppa Carnevale che Siena vinceva nella storia di questo torneo e Marcello ce l'ha tutte e dieci in Bacheca per cui sono tutte sue. Per noi lui è una figura fondamentale, imprescindibile, la quale non potremmo fare a meno e anzi non lo ringraziamo mai abbastanza perché come dici te il lavoro che fa Marcello non è mai sotto i riflettori ma è quello che per noi è fondamentale per andare avanti quotidianamente anche perché lui in campo non scende praticamente mai, scende soltanto per le partite e il resto del tempo lo passa in ufficio ma ci permette di portare avanti tutta l'attività e il nostro cuore è pulsante per cui è imprescindibile. Mauro e Gabriele una battuta anche a voi sull'importanza poi del settore giovanile perché non siamo più sfortunatamente a livello di prima squadra ad altissimi livelli e quello era un periodo nel quale sì poi veniva fatto il reclutamento e venivano comunque vinti dei titoli ma difficilmente la prima squadra attingeva in pianta stabile a giocatori giovani e ora la situazione è un po' diversa quindi insomma avere un settore giovanile che costruisce dei potenziali giocatori è importante no? Indubbiamente mi ricordo quando una persona di cui non è bene fare il nome parlava di Vitali oggi Vitali insomma lo conosciamo in A1 sta facendo i suoi bei campionati e a quel tempo ci siamo permessi di poterlo mandare via dicendo vabbè se esplode ce lo riprenderemo non c'erano grossi problemi in quel periodo oggi il serbatoio che Michele sta portando avanti con l'Under 18, Under 20, Under 16 ora scusami io ho ancora il bambino piccolino quindi per ora vedo sempre quelli sotto ma sono importanti anche quelli sì anzi la Sancat ho visto a proposito perché spesso ci confrontiamo che sono una società molto valida da questo punto di vista anche come allenatori mi sembrano molto in gamba io per quello che ho potuto vedere a livello di Aquilotti quindi voglio dire niente di più che questo però ecco è fondamentale avere un serbatoio come una volta non serviva oggi servirà e servirà parecchio perché quello ha fatto Cosimo l'altra sera a Costi ha dimostrato che comunque sia è nelle sue corde non è una cosa strana per lui girarsi e tirare in quel modo e quindi Michele datti da fare perché i giocatori c'è da formarne parecchi insomma per stare in A2 invece io dico sempre una cosa se noi andiamo a vedere nella A2 nella A1 un po' meno ora c'è arrivato Portannese e compagnia bella forse Iannuzzi non sbaglio NU ormai è veramente un buon giocatore anche per la Serie A ecco se a pensare solamente quello che c'è in giro in questo momento in Italia che sono passati da Siena ci facciamo quante? 2, 3, 4 squadre? sì 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 ce n'è tanti ma infatti spesso e volentieri i nostri detrattori non le ricordano queste cose ma di giocatori usciti dal nostro settore giovanile che sono in Serie A, in Serie A2, in Serie B ce n'è tanti e la cosa che ci fa più piacere è che sono ben riconoscibili per etica di lavoro per atteggiamento, per continuità per cui non ce li dimentichiamo perché ci abbiamo lavorato tanto assolutamente poi ce li troviamo sempre davanti tutte le domenie anche perché Gabriele poi l'importanza di giocatori che magari sono proprio cresciuti nella società dovessero arrivare in prima squadra c'è anche un legame affettivo sia da parte loro ma soprattutto da parte del pubblico c'è l'identificazione che magari tantissimi anni fa era un altro basket però abbiamo vissuto a Ceccherini, Giustarini, Dolphi insomma ce n'erano tanti ma anche Cocchia volendo venire più vicino ai tempi nostri, Rossetti ma io credo voglio fare anche un trade union con la scorsa primavera la tarda primavera aver portato più rappresentative alle finali nazionali non c'è più il Monte dei Paschi non c'è più quello sponsor che si permetteva di acquistare il meglio che c'era sì c'era un po' di concorrenza ovviamente però spesso venivano a Siena a giocare ora è tutto diverso secondo me quella presenza non significativa è importante alle scorse finali nazionali questa vittoria danno agli addetti a lavori non tanto a noi tifosi che siamo un po' più superficiali e si guarda la prima squadra principalmente danno l'idea che Siena stia tornando e ripeto con ora capacità diverse quindi questa è la testimonianza che è tanto più importante del lavoro che è stato fatto perché non c'è più lo sponsor munifico dietro alle spalle quindi il lavoro che è stato fatto ora è clamoroso da questo punto di vista e appunto i livelli sono diversi della prima squadra quindi come dicevi te è anche non solo pensabile ma auspicabile avere dei giocatori che in teoria potrebbero diventare e divenire anche giocatori bandiere bandiere accresciuti alla menzana coccolati alla menzana e poi finalmente rappresentanti della prima squadra Michele ci dicevi che prossimo appuntamento andate a giocare a Velino domani per la Under 16 credo c'è il derby alla Virtus domani Under 16 abbiamo il derby anche la squadra Under 16 è una squadra che si sta comportando molto bene perché prima in classifica in Toscana ha vinto tutte le partite tranne una che tra l'altro ha coinciso con la finale della Coppa Carnevale in cui la sera prima abbiamo deciso di tenere buona parte della squadra a giocarsi la finale perché se l'erano meritata per cui siamo andati con tanti ragazzi dell'Under 15 a giocare una partita che abbiamo perso ma ci ha fatto è andata bene così perché non ha compromesso niente siamo prima in classifica stiamo cercando di chiudere bene anche quel campionato vorremmo riuscire ad arrivare in fondo anche con quella squadra che poi la squadra che l'anno scorso ha perso una sola partita che è stata la finale Scudetto durante tutta la stagione e vorremmo cercare di fare un percorso buono anche lì adesso andremo poi giovedì con l'Under 18 nella seconda partita della fase interregionale ad Avellino abbiamo vinto la prima Perugia vogliamo vogliamo provare a proseguire questo percorso che ovviamente concede il passaggio diretto alla finale nazionale per quanto riguarda gli Under 18 solo la prima classificata per cui abbiamo poca scelta non è non ci possiamo permettere di fare nessun tipo di calcolo riposarci mai è un girone impegnativo soprattutto in termini di trasferte perché saremo ad Avellino e saremo a Caserta due settimane dopo però lo affrontiamo consapevoli del fatto che abbiamo tutto in mano per fare il nostro percorso io anzitutto ringrazio per i complimenti che avete fatto prima però concordo con il fatto che si debba provare a dare continuità a questo percorso la partita di Treviglio tra le tante cose ha messo in evidenza che Treviglio in una partita che probabilmente non è stata ideale per loro però ha fatto giocare tanto i propri ragazzi Mattia Palumbo che è un ragazzo che io ho conosciuto l'anno che sono stato a Roma che è stato in campo 25 minuti non bene per fortuna nostra perché non ha mai fatto canestro però ecco credo che il campionato si presti questo tipo di campionato si presti anche per per poter dare fiducia anche ai giovani per cui in una situazione un pochino più tranquilla magari dell'attuale nostra in classifica credo che avere dei ragazzi pronti per poter per poter dare un supporto alla prima squadra sia probabilmente l'ideale quello che ha detto Gabriele prima nel mio piccolo quando siamo stati fuori con questi bambini ci è riconosciuto cioè fino ad ora c'erano i soldi vabbè coi soldi si dice smanda l'acqua all'insù adesso cominciamo a dire eh ma voi siete alla menzana avete degli allenatori validi avete questo avete l'altro storia esatto cioè lofia si questo è soprattutto capacità atteggiamento di giocatori che vanno però a me ha rappresentato una continuità no non lo vogliamo far diventare rosso però la realtà se prima c'era la foglia di fio che era lo sponsor cioè i soldi però la qualità c'era e poteva essere un po' mitigata dalla presenza dei soldi oggi con questo fatto che la capacità finanziaria non è la stessa rimangono le capacità e questo indubbiamente è l'aspetto che viene fuori con maggiore evidenza e questa cosa ci interessa di più perché i soldi vanno e vengono e che può fare anche comodo con il signore Corona che dicevamo prima perché il brand si si valorizza anche in questo cioè venite a Siena perché i vostri figli impareranno a giocare a basket avranno un atteggiamento che è quello che ripeto a me mi preme nelle persone che vestono la nostra maglia e questo magari noi glielo possiamo dare ti liberiamo ti abbiamo fatto diventare rosso vi ringrazio vi ringrazio sono troppi complimenti però grazie anzi spero di poter riportare poi a quelli che sono i veri protagonisti perché c'è come hai detto bene te dietro di me ci sono tante persone che lavorano in silenzio a cui vanno gran parte dei meriti che avete ascritto a me per cui cercherò di riportarli al meglio possibile quindi ringraziamo e salutiamo Michele Catalani ovviamente in bocca al lupo per tutti i prossimi appunti crepi crepi grazie noi ci fermiamo poi dobbiamo tornare a parlare sì di menzana ma anche fare un doveroso omaggio ad una persona che purtroppo ci ha lasciati la scorsa settimana fra poco